Case, credo che si debba prendere l'impegno di partire da quelle sfitte e quindi in un tempo assolutamente decente e limitato liberarle, lavorare sulle graduatorie, lavorare sulle graduatorie perché sento a volte che questo dà origine a non comprensioni, incomprensioni sul fatto di come le case vengono assegnate all'uno o all'altro.